Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguri muore in un tremendo incidente d'auto, il famoso personaggio Ore di sconforto provenienti da oltreoceano e prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video, cari amici di YouTube, parliamo di un tremendo sinistro che purtroppo è costato la vita al noto personaggio, il mondo della moda e dello sport sono a lutto per la triste perdita di Merikit Laurico, era un personaggio appassionato di moda, un influencer del web, ma soprattutto era l'assistente braccio destro del grande Floyd Mayweather, leggenda del pugilato Merikit è scomparsa in un drammatico incidente, la donna, 47 anni, si stava recando in aeroporto a Las Vegas, nello stato americano del Nevada, il 28 marzo 2023 è stata coinvolta in un tremendo frontale con un altro veicolo e Merikit Laurico perde la vita, ha soli 47 anni, il primo di Marco Liguri fa le più sentite condoglianze alla famiglia di Merikit Laurico, braccio destro di Floyd Mayweather, influencer del web, nonché personaggio molto importante nel mondo della moda americana per la triste perdita della giovane ragazza e fa le più sentite condoglianze anche al grande campione di box Floyd Mayweather. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Grazie a tutti.